vai tranquilla dovremmo già essere live però tu al momento ecco qua sì 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 tanto io tolgo la privacy modifica privacy la metto per tutti c'è un po di ritorno sbaglio no sono io che ho preso il tablet per 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 impostare allora incolla aspetta che a me non è ancora arrivato io non tu sei sparita eh aspetta adesso ci sei ma dobbiamo tenere acceso stream yard sì sì assolutamente devi rimanere così come siamo ci augurano già buona serata buona serata ti mando subito il link solo un attimo di pazienza per coloro che che ci stanno osservando perché dobbiamo condividere e poi partiamo grazie mille allora ti prendo da qui con questo link tu puoi tranquillamente girarlo a chi vuoi allora coppia link copiato nick colla mi lo mandi su whatsapp yes quindi adesso dovresti ritrovartelo eccolo qui molto bene ragazzi quanto so poco tecnologica no ma non ti preoccupare allora fai tutto con calma faccio anch'io e tra due minuti partiamo l'unica cosa sei di nuovo oscurata nick sei sei black sì sì no è perché ok tutto è tutto calcolato posto posto a posto è giusto probabilmente scompare l'immagine per quello allora aspetta vediamo spero che non mi dica qui licenziata subito in tronco lo spettacolo di me che condivido le cose abbastanza imbarazzante no ma non si vede nulla vai tranquilla c'è soltanto il mio faccione che sta condividendo la diretta quindi non ci sono problemi condividi per te che metto tutti ok voilà ce la faremo qua siamo posto eccoci eccoci aggiungiamo un minuto io torno su stream yard vai tranquillo vai su stream yard perché se no non mi si vede esattamente scusate l'inquadratura degna a posto allora possiamo salutare buona serata a tutti buona sera a tutti buona sera a tutti allora intanto una premessa prima cosa ma grazie a te sei assolutamente un ospite graditissima poi siamo amici da tanto tempo sei un volto notissimo di tv che contano ovviamente non le possiamo citare ma sono tv che contano parecchio e poi vabbè io mi sei possiamo citare le possiamo citare allora vai vai tu direttamente ecco perché mi sembra giusto io un po di un po di autobiografia io e daniel ci siamo conosciuti a quello che era sfortuno negli studi di cinisello nel lontano 2015 2016 esatto e da lì poi siamo andati a a torino top planet tv 7 rete 7 esatto un attimo e dopo di che mi sono un attimino staccata e ho fatto anche la rai fino all'altro giorno quindi insomma essere cioè partire dagli studi di cinisello arrivare su su rai sport e rai due è una bella soddisfazione assolutamente assolutamente per quello detto volto notissimo giustamente ti sei presentata però credo che coloro che ci seguono sappiano benissimo chi sia tu e conoscano benissimo il tuo il tuo percorso magari magari non gli inizi mi ricordo quando siamo andati a torino insieme perché per chi non lo sapesse siccome tanti mi conoscono per top planet e nicole che in un certo senso mi ha introdotto perché lei è arrivata molto prima di me come solitamente arrivano sempre le fanciulle prima dei maschi e l'accompagnai a torino da lì conobbi il buon massimo tadorni e poi è cominciata la mia avventura esattamente il 30 dicembre del 2017 nick intanto aveva già preso diciamo possesso di schermi più prestigiosi io invece li sono rimasto però era proprio a cavallo tra tra top planet e la rai e poi c'è stato il era dicembre 2017 sai che pensavo 2016 era dice erano era fine novembre 2017 ti ricordi poi che avevamo sbagliato l'orario praticamente eravamo finiti nell'ora legale perché erano noi belli tranquilli stavamo andando in pizzeria poi abbiamo guardato all'orologio convinti di essere un'ora di vantaggio tu addirittura mi ricordo che richiesti informazioni a dei tuoi amici calciatori di come fosse la pizzeria famosa di Ciro Ferrara e ti ricordi questo poi una volta che abbiamo parcheggiato belli tranquilli mancavano praticamente mancava un quarto d'ora la tua trasmissione allora via di corsa di corso svizzera hai ragione hai ragione che che roba è vero e poi no vabbè è stata una bella avventura è anche stato bello dare diciamo un po il passaggio di di consegne a daniel è un posto meritatissimo adesso chi ti conosce sa sa bene quanto meriti di stare in televisione grazie mille sia preparato con i tempi insomma per me personalmente era sempre un piacere averti in trasmissione ma anche dopo ci facevamo le risate in radio siamo sempre rimasti amici perché poi è comunque un mondo dove tante volte ci si perde di vista invece devo dire che pure ovviamente con le dovute pause perché poi Nicola era molto impegnata appunto con la Rai non era solamente a Milano ma tante volte è andata a lavorare a Genova a Roma mi dicevi quindi ha girato un po l'intera Italia però non ci siamo mai completamente persi di vista abbiamo fatto qualche servizio a Genova e poi vabbè siamo stati meno male a Milano perché negli studi di Roma ammettono di non essere mai stata perché tanto dello sport si fa Milano in corso Sempione e penso ci siano anche gli studi mecenate e a Roma invece io ero stata per più che altro per seguire il Frosinone perché poi io ho sempre avuto la passione per la serie B e e quindi quando il Frosinone nei primissimi anni no quando quando è stato promosso in serie B io ho scelto di seguirli in quanto io ho detto vabbè sono io neopromossa tra virgolette sono loro neopromossi e quell'anno devo dire che è stato veramente bellissimo perché poi comunque c'è stata la promozione a fine anno e quindi adesso non so se ci sta seguendo qualcuno interessato in intraprendere anche questa carriera di giornalista io dico sempre una cosa da sia da giornalista che che da ufficio stampa perché poi è stato il mio lavoro principalmente negli ultimi due anni e dico sempre di non mettere in secondo piano la serie B la serie C perché per fare questo lavoro è importante anche capire quelli che sono le dinamiche i tempi i modi in cui porsi all'interno di di questo mondo che che non è cioè che è diverso da tutti gli altri quello lavorativo e tutto quanto quindi il modo per impararlo più facilmente è andare sui campi di b e di c perché è più facile paragonarsi e confrontarsi con persone che sono al tuo livello che stanno imparando sicuramente ma anche persone che che sono nel calcio da tanto tempo quindi direttori piuttosto che uffici stampa e posso dirti che a distanza di di anni ormai qualche annetto è passato ci si ritrova qui chi ha un ruolo migliore dell'altro chi chi stacca un po perché poi sai il mondo del calcio è questo qua uno ci sta che si prende delle delle pause poi ritorni ma pensa che una volta mi chiedevano ovviamente di te perché insomma sei estremamente conosciuta e chi è Nicole Gomena io una volta risposi questo non lo sai neanche tu lo dico tranquillamente in diretta ho detto tu sai tu lo sai la formazione sai chi è il portiere non mi ricordo citai una formazione di b adesso dico frosinone ma poteva essere un'altra squadra e questa persona mi rispose che era una detta ai lavori no dico ecco benissimo Nicole Gomena è questa non è soltanto una tifosa della juve o soltanto una giornalista presentatrice ma è un'appassionata di calcio una professionista di calcio che ti sa sciorinare e ti sa elencare anche dei calciatori minori eh i portieri ma ma tutte le formazioni di serie B perché ricordavo benissimo che tu non è soltanto che studiassi come giusto studiare per fare questo tipo di mestiere ma andavi anche a vederti le partite una volta tra l'altro sei venuta anche qui poi ti accorgi che stai crescendo quando quando ti guardi indietro e dici ammazza che faccia che avevo io prendevo la mia macchinina o più raramente il treno e andavo sui campi di serie B più vicini più raramente serie C perché allora erano stagioni in cui in B c'era il Novara la Provercelli e poi c'era il Brescia la Cremonese che ancora in serie B ha fatto dei grandi campionati e quindi io mi ritrovavo tutte le piazze vicine per cui eh andavo spesso e volentieri tanto comunque riuscivo sai eh io vivendo a Milano ho ehm Cremona un'oretta a Novara a 35 minuti Vercelli 45 lo so bene perché il mio ragazzo giocava lì non ci siamo conosciuti quando io ero giornalista infatti lo saluto perché mi sta portando posso ma ci mancherebbe lo saluto anch'io con con grande piacere con grande affetto beh infatti vabbè anche Ale se mi sta guardando magari non lo sa ma parlavamo con Daniel che voleva venirti a vedere giocare vabbè chiusa la parentesi no volentieri volentieri avevo tutte le piazze vicine e ne approfittavo ed è lì che con una gran faccia di tolla che non so se avrei ancora andavo facevo domande interviste conoscenze anche più semplici poi sai una conoscenza tira l'altra e io penso che muovere e smuovere le cose aiuti poi a a far girare la situazione qualcosa capita sempre e così tra tra una cosa e l'altra mi sono ritrovata a fare ufficio stampa per per questa agenzia di procuratori direi piuttosto importante ecco sì no no ma possiamo anche dire reddit group ho avuto il piacere di lavorare con marcello lippi con con giorgio chiellini e per per progetti molto belli l'ultimo di cui in realtà anche io mi sono mi sono accorta ultimamente di aver fatto parte uscita la pubblicità in questi giorni non so se hai visto di di questa nuova serie di cattelan che andrà in onda su netflix ok io io amo cattelan tipo il mio idolo mio di mio fratello lo seguiamo da quando era t rl e c'è una puntata spoiler vai vai spoileriamo a questo dialogo con con viali un'intervista poi sai com'è cattelan va di esperienze no e in questo dialogo ci sarà anche un ricordo di di marcello lippi che ricorda viali persona che che ha conosciuto molto molto bene e devo dire che quando ho sentito marcello per parlargli di questa cosa lui è stato subito entusiasta di di parlare di viali e con viali e per viali perché naturalmente come tanti sapranno immagino la situazione per viali non è non è delle più rose adesso in questo momento sta meglio per fortuna e gli auguriamo ecco è importante che tu dica questa cosa non solo a me ma anche a coloro che ci ascoltano perché insomma la salute di questo grande campione in primis che appartiene è patrimonio del calcio mondiale a tutti gli effetti ma che poi sta molto a cuore soprattutto noi tifosi bianconeri perché insomma viali lo ricordiamo l'ultimo che ha alzato la champions speriamo che presto qualcun altro ci mi auguravo che potesse essere un altro tuo amico vale a dire giorgio chiellini ma la vedo abbastanza complicata ecco così entriamo anche un po nell'attualità anche se adesso con l'arrivo di blauvic esattamente esatta con l'arrivo di blauvic non diciamo niente ci con buffon non c'è stato niente da fare perché avevano fatto anche già dei montaggi te li ricorderai prima di cardiff buffon con la champions in mano però ti dico la verità così a livello proprio d'immagine non la non riuscivo a vederla bene non perché non volessi anzi secondo me la champions è qualcosa è un treno che passa una volta sola e gigi lo ha perso non per colpa sua poverino però addirittura due rigori nel 2003 quella finale secondo me maledetta di manchester gli ha determinato un po proprio il suo destino con le finali di champions perse credo di per la serie quando ti gira male poi e purtroppo sì guarda io quella quella squadra storica dei veterani e ti parlo di buffon ti parlo vabbè anche di chiellini adesso che ci sono voci anche di rinnovo giocatore incredibile una persona che in spogliatoio fa la differenza mi sarebbe tanto piaciuto anche nel 2015 nel 2017 che sono anni che io ho vissuto di più logicamente essendo più grandicella il 2003 ero tu sei giovanissima ecco quindi non puoi ricordare il 96 assolutamente ecco questo è evidente no troppo piccola no mi ricordo che da piccolina mio papà mi metteva davanti alla televisione per per vedere baggio infatti quando è uscita la serie la serie scusami il film di netflix l'anno scorso cioè è stata un'emozione vederla insieme con mio papà che insomma sai mi metteva da piccolina a vedere codino e è stato bello rivederlo anche se in modo diverso però però ti dico sono sono persone sono uomini che meritano certe gioie nella vita che poi è arrivato il mondiale quest'anno è arrivato l'europeo per per chiellini che non non aveva vinto il mondiale lui non c'era ancora nella nazionale del 2006 come come tanti ricorderanno e però la champions ecco tu che lo conosci personalmente te ne ha mai parlato giorgio della champions è un sogno una maledizione oppure fa finta di nulla perché io per esempio tante volte bisticcio un po anche con tanti tifosi bianconeri con tanti amici opinionisti sono sempre scherzi per carità di dio c'è sempre un grandissimo rispetto perché io ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo con estrema franchezza che questo è un bellissimo ciclo meraviglioso ma imperfetto perché purtroppo mi duole dirlo quindi qua vado anche un po polemicamente a smentire chi mi dice che quando sono atl sono un po troppo servile e piego un po troppo la testa questa è la pagina mia e quindi non sono servile nei confronti di nessuno esatto lo dico qui davanti a tutti purtroppo il ciclo della juve cari amici bianconeri è bellissimo però quello dell'inter è più completo purtroppo mi duole dirlo come se in questo momento mangiassi un sasso dovessi digerire di champions certo e quindi è inutile ti dico adesso io con lui non ho mai parlato di questa questione non ti ha mai parlato della champions quindi giorgio no ma con lui abbiamo in realtà parlato più di progetti sai scambi europeo eccetera perché io poi nel 2017 non ero ancora lì quindi più che messaggi tipo dai e forza eccetera sai non 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 vai neanche a rimbangare quello che ti posso dire che sicuramente è stato un po un rimpianto fino fino a questo momento poi veramente mai dire mai perché come come negli europei come nei mondiali anche anche in champions ci sta che che si vinca grazie ad episodi è ovvio che la la squadra deve deve essere all'altezza perché poi ci sono squadre come il bayern come il bar sa e reale ti parlo di questi di questi ultimi anni erano erano davvero imbattibili quindi sai anche se se fosse arrivato in finale magari te ne sareste andato fuori con la testa basta un'altra volta per cui ti dico è stato un rimpianto fino ad adesso però io voglio pensarla a modi ciclo del bayern piuttosto che a modi ciclo dell'inter perché l'inter quando vinse la la champions poi smantellò la squadra qualche mese dopo e poi insomma finì tutto con la champions proprio si concluse ogni cosa arrivati anni anni parecchio difficili quindi io preferisco avere un percorso più lineare che poi porti veramente anche anche con la giusta pazienza a qualcosa di veramente grandioso anche con una squadra magari un pochino più scarsa tra virgonette rispetto a quella del 2015 del 2017 piuttosto che insomma finire lì cioè al silascio non ho mai ragione mesi dopo basta io penso che quello della juve nonostante questi ultimi anni bui so che tu sei stimatore di sarri quindi quindi ci vado piano non toccarmi lo scudetto del 2020 perché no vabbè puoi tranquillamente scherzare anzi ti dirò quel fatto che sono sono il solo anche tanti altri ospiti chiaramente sono però allegri io rispetto l'opinione di tutti poi figurati tu le tue parole sono sacre quasi come quelle della bibbia però io sono legato non è per andare contro allegri due scudetti in particolare il primo di conte perché secondo me è incredibile soprattutto battiamo un milan che è nettamente più forte di noi sulla carta e chiudiamo il campionato da imbattuti quello è un capolavoro e poi naturalmente l'ultimo perché io almeno da par mio al di là delle mie simpatie è vero che sarri non è riuscito mai a far giocare bene la juve questo non lo posso negare però altrettanto vero avendo fatto l'allenatore nel basket che è un altro sport ma so cosa significa avere empatia con la squadra vincere qualcosa con tutto lo spogliatoio contro è un'impresa titanica secondo me sì no ma tanto che non so se ti ricordi che proprio dopo aver vinto aveva detto lui stesso se se ce l'ho fatta io vincere lo scudetto con questa squadra vuol dire che sono veramente forti eh sì l'ha detto proprio ai ragazzi ecco forse è stato l'unico momento un po' distensivo ecco perché poi gli unici che gli volevano bene è sicuro che di steso c'era niente ho avuto modo poi di parlare qualche mese dopo con con una persona all'interno della juventus sì e mi aveva detto che proprio non era non era scattata la scintilla eh sì ma questo si è capito fin dai primi mesi eh c'era stata un po' di fretta nel nella scelta dell'allenatore quindi quindi poi sai quando quando allacci la camicia col bottone sbagliato poi tutto il resto segue capisci e poi voglio dire chapeau perché comunque è stato vinto quello che è stato vinto quindi tre partite sono state se vogliamo da Sarri che sono state le due con l'inter soprattutto più ancora quella a Milano che non quella a Torino e un'altra che è stata molto dimenticata che a me piacque moltissimo seppure pareggiata il 2 a 2 a Madrid dal Wanda metropolitano che era un grande atletico quello esatto quello veramente poi come hai detto tu sicuramente qualcosa si è rotto eh si è andati avanti un po' attraverso il compromesso storico secondo me se potesse materializzarsi impallidirebbe rispetto al compromesso che si è creato all'interno secondo me dello spogliatoio Juve nel corso di quell'anno lì e assolutamente ma poi si parla di di personaggi che hanno il loro bel carattere poi c'è chi c'è chi chi chiama come inista Sarri uno che che va che va per la sua strada e ma in realtà tuttora sta facendo così alla Lazio per cui io non mi non mi sarei mai aspettata di vedere un Sarri tra virgolette democratico eh lui voleva era era lì come fa il suo mestiere imponendo le sue idee imponendo eh il gioco a non tutti va bene anzi raramente va bene io penso che eh l'ultima volta che nel senso nell'ultima squadra in cui non ha ricevuto critiche ma molto cioè critiche ci sono sempre però molto più amore che critiche è stato in Napoli perché anche quando poi ha vinto l'Europa League in Inghilterra cioè due settimane prima gli elendicevano di tutti sì 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 che tra l'altro è stato l'ultimo italiano perché poi dobbiamo andare se non ricordo male come italiano forse a Malesani addirittura perché l'Inter del triplete vince nel 2010 però c'è Burigno seduto in panchina e prima dell'Inter del triplete vi sa che l'ultima squadra a vincere proprio il Parma di Malesani la Coppa UEFA Mosca 3 a 0 contro l'Olympic di Marsiglia quindi dobbiamo andare veramente quasi alla notte dei tempi in un calcio che non esiste più a tutti gli effetti erano gli anni in cui praticamente la Coppa UEFA diventava un surrogato della Coppa Italia a tutti gli effetti ricordiamo la nostra finale con la Fiorentina ricordiamo la finale Inter Roma eh Juve Parma che non andò proprio benissimo anche perché ci annullarono un gol regolare anzi il gol del Parma era in fuorigioco al Tardini mi ricordo perfettamente nella stagione novantaquattro novantacinque andando sulla qualità io torno troppo indietro lo ricordo in trasmissione da me tiravo fuori questi aneddoti che veramente era era da fare una rubrica perché non ci abbiamo pensato ma possiamo farla non non è mai troppo tardi in questa vita eh la chiamiamo come il programma RAI facciamo una copia che non è mai troppo tardi non è mai troppo tardi è vero non è mai troppo tardi ci approvate questa idea io non vedo commenti perché sono su streamer ma comunque ci sta ci sta assolutamente no comunque dai ma pensa ti faccio ti faccio una battuta di intermezzo il mio ragazzo ti fa toro ok io non ho nulla non perché sia collegato con noi io non ho nulla con il toro perché lo spieghiamo a tanti torinesi assolutamente lo juventino che sta in lombardia sente la rivalità con le squadre milanesi poi c'è chi la sente di più con l'inter io la sento di più col milan perché chiaramente sono sportivamente parlando non si offenda nessuno invidioso dei trionfi rossoneri in Europa avrei voluto che la juve facesse la metà ecco mentre con l'inter sì i rarazzurri hanno una champions in più però siamo lì ecco tutto sommato non è che a livello europeo siamo così indietro rispetto alla formazione nero azzurra quindi tanti la sentono con l'inter poi dopo calciopoli io la sento molto col milan per me il toro è l'altra squadra di torino punto ecco no 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 ma in realtà anche secondo me e poi i suoi quando mi hanno conosciuta che ho detto che che ero della juve volevo no dai sono stati carinissimi però vabbè dai c'è un po' di questa rivalità che a casa non abbiamo anzi guarda noi ora non so se qualcuno mi insulterà spero di no dai però con mio papà siamo spesso andati a superga mio ragazzo mi ci ha portata ma abbiamo visto anche tanti documentari sul grande torino è una storia essendo tra le più belle sportive che che appassiona sempre io penso che poi al di là della fede calcistica si debba un po' guardare assolutamente anche ascoltare qualche racconto perché poi quando quando tu vai a conoscere magari un campione piuttosto che l'altro non è non vede magari la la rivalità che che hanno i tifosi sai magari in piazze come come roma ad esempio in cui convivono laziali e romanisti ci sono giocatori che conoscono benissimo altri giocatori dell'altra squadra ci sono momenti come prima e dopo il derby in cui non possono andare a scena insieme perché anche con la juve mi ricordo zaccarelli contardelli se non se non ricordo male franco costa aveva fatto un servizio una volta adesso non mi ricordo chi fossero i giocatori in questione ma di due giocatori uno del toro uno della juve che abitavano nello stesso palazzo avendo due appartamenti diversi e quindi andarono a bere un caffè con franco costa tutto seguito diciamo dalle telecamere rai ecco quindi come dici tu effettivamente poi i giocatori sono assolutamente tutti non dico tutti amici però poi nel momento del derby sono sono atleti la vedono da da un punto di vista diverso ma ti dirò con quelle tante cose un po' brutte un po' negative che si sono viste negli anni nel calcio poi è bello anche vedere che che ci si leva un po' la maschera e e si è tutti comunque sono persone che stanno facendo della loro passione il loro lavoro per cui diciamo che si dovrebbe sempre apprezzare quando si riesce a realizzare un sogno del genere perché è difficile è tremendamente difficile però è tanto bello poi quando succede nick mi hanno fatto tutti una domanda l'avranno fatta l'avrai sentita anche tu e l'avranno fatta anche a te io guarda arrivo subito al dunque perché mi conosci sai che sono ermetico non non circunnavigo l'argomento cerco sempre di andare al bersaglio i quotidiani sportivi hanno addirittura fatto intravedere sullo sfondo il tricolore la juve è tornata veramente in corsa io ho fatto questo calcolo semplicemente se noi dovessimo vincerle tutte che è molto difficile arriviamo a quota 87 punti secondo me 87 punti non ci arriva nessuno è un po' una mia previsione un mio pensiero perché il napoli non ha continuità perché l'inter che sicuramente in questo momento la formazione che maggiormente merita lo scudetto però non ha secondo me quella cattiveria quella lucità per vincere con le grandi negli scontri diretti soffre tremendamente e non so come potrebbe reagire la squadra di inzaghi nel momento in cui dovesse sentirsi il fiato sul collo cioè per inciso se sabato dovesse vincere il napoli secondo me anche la stagione dell'inter potrebbe svoltare in un'altra maniera io io non ti sto dicendo che credono lo scudetto ti do anche le mie percentuali io dico 35 inter 25 mila nel napoli e il resto quindi 15 per cento juve non di più ecco non mi sento di dare 0 per cento la juve ti dico 87 punti per me non ci arriva nessuno no sai che anche secondo me guarda in realtà arriviamo da dal periodo covid da mesi anche abbastanza pesantini sempre per questa situazione qui e non solo perché poi mettici anche tutte tutte le altre incognite che insomma hanno visto tutte le squadre avere una qualche falla nel sistema io non vedo squadre come anni fa come era la juve prima ma nemmeno come era il napoli prima secondo me in generale il livello si è un pochino abbassato e bravissima forse un po alzato il livello delle delle piccole perché non c'è una reale squadra materasso ora se vogliamo vedere in basso alla classifica magari la salernitana però lo spezia già adesso si è rinforzata quindi credo che nel girone di ritorno credo che non sia neanche più così scontato e facile battere la stessa salernitana credo perché comunque si è rinforzata anche perché poi adesso mettici per chi ce li ha gli impegni in champions la cupa italia e tutto quanto quindi le cose si fanno difficili secondo me è un campionato è un campionato perdonami molto più imprevedibile di quello che si pensa mediocre e imprevedibile cosa mediocre e imprevedibile secondo me mediocre no perché comunque diciamo di livello un pochino più basso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere però non c'è neanche da da biasimare nessuno perché dopo dopo anni in cui ci sono state delle situazioni che davvero nessuno in realtà era preparato a gestire perché chi l'avrebbe mai immaginato di trovarsi in pandemia ma quando nemmeno nostra damus forse lui però non è qui a raccontarcelo per cui ci siamo tutti trovati impreparati quindi secondo me era era anche prevedibile trovarsi in un campionato in cui può vincere una può vincere l'altra che è divertentissimo se hai le coronarie pronte però io penso che veramente ci sia la possibilità che succeda qualsiasi cosa e per qualsiasi cosa intendo qualsiasi cosa quindi a noi non resta che trovare un buon cardiologo e metterci seduti a guardare la squadra che ti fiamo vedendo poi come va a finire e tra l'altro guarda ma una cosa che dicevo in rai la settimana scorsa a proposito di di talenti che magari mancano un pochetto al nostro campionato pensa che il primo marcatore italiano dei tre campionati italiani nintendo a b e c tutte le squadre è un giocatore che magari tu avrai già sentito che è luca moro lui è a 21 gol in 23 partite se non sbaglio guardavo prima la statistica e questo ragazzo qui l'ha preso il il sassuolo lui adesso gioca al catania e bob chissà che non avremo la possibilità di vederlo nei prossimi anni perché secondo me guarda veramente i giocatori ci sono ce li abbiamo ma hai ragione valorizzarli e chissà che in questi mesi non non potremo vedere qualche sorpresa nuova poi abbiamo anche i vari scamacca poi ragazzi ci sono gli spareggi per eh infatti volevo parlare con te perché so che poi tu sei una grande tifosa della nazionale mi ricordo che andasti anche a san siro in quel maledetto italia svezia che ci escluse da russia 2018 io non faccio pronostici però sono molto preoccupato perché credo che il rischio concreto di non andare per la seconda volta consecutiva ai mondiali sia altissimo non tanto per sfiducia negli azzurri ma perché credo che andare a giocare sempre ammesso e non concesso che risposta i pronostici delle semifinali vengano rispettati una partita secca in a casa di cristiano ronaldo è il peggio del peggio una pena del contrapasso da girone grantesco sai che che cosa mi preoccupa di più ma ma anche più delle delle due formazioni se stai a vedere chi chi è più preparato chi ha miglior qualità eccetera mi preoccupa un pochino questo passo indietro nella mentalità perché è come se da settembre da dopo l'europeo ci fossimo dimenticati che che siamo i campioni d'europa questo non mi è piaciuto per niente questa chiamata balutelli mi ha dato un senso di tornare a molto sono d'accordo anche un senso di insicurezza e anche secondo me di diciamo così di smentire l'essenza di quella nazionale perché questa nazionale è nata senza un vero centravanti di ruolo cioè senza dare punti di riferimento il fatto che fosse perdonami il termine un po zoppa secondo me è stato un po il suo punto di forza di non dare punti di riferimento e adesso andando a cercare tant'è vero che anche nelle trasmissioni mi hanno chiesto sempre ma chi metteresti dico no questa nazionale è nata così deve andare avanti ed eventualmente anche morire così perché questa è la nazionale degli europei perché secondo me l'aggiunta di qualcuno che non ha fatto parte del del gruppo dell'europeo ma che non non rispecchia la mentalità di quell'italia lì può essere nocivo ma proprio per una questione di spogliatoio poi vabbè io l'ho vissuto sulla mia pelle sai quando è uscito il libro di chiellini che c'è stata tutta la la diatriba balotelli chiellini non non era una sorpresa poi chi chi è dietro al giocatore è stato bravo a farlo arrabbiare a mandarlo alle iene a indignarsi perché chiellini aveva detto le cose come stavano però io mi sono immaginata la tranquillità di uno spogliatoio che ha raccontato l'europeo come una famiglia con una favola dove il gruppo era così unito che nessuna nessuna avventura calcistica che avevano vissuto era stata così così intensa così bella così perfetta ne ha parlato chiellini in un'intervista a muschio selvaggio ultimamente le podcast di fedez e mettere barotelli che è un giocatore obiettivamente scomodo e che veramente si sa che non va d'accordo con con i veterani secondo me è stato un grosso passo indietro ora io lo so che quello stage del 26 28 gennaio coverciano era una prova per chi in nazionale non andava da un po oppure non era nemmeno mai stato come come ad esempio lorenzo lucca che era stato solo in under 21 ma chiamarlo mi mi ha preoccupato proprio per una questione di mentalità questo sì e quindi io penso che la chiave per per passare i mondiali sia sia tutta lì e un po di fattore c che poi era quello che c'era mancato magari calci di rigore noi non siamo mai stati tranne esclusa la finale di berlino non siamo mai stati fortunati con i calci di rigore cioè quando siamo stati fortunati abbiamo sempre portato a casa dei trofei tu hai detto del fattore c giustamente io parlo del fattore g di gialluigi donnarumma perché comunque indubbiamente donnarumma io ho detto che va addirittura contro le leggi di gravità nel senso che comunque non è soltanto un pararigori anche sotto l'aspetto psicologico a me non toglierà mai nessuno dalla testa che i due giocatori dell'inghilterra non sbagliano perché sono entrati a freddo come hanno sostenuto in tanti ma perché donnarumma è talmente grosso che non ti fa vedere spazio nella porta e quindi se rimane fermo non sai più dove calciare cioè mi viene in mente van der sar tu sei troppo giovane ma i rigori di roma li avrai visti van der sar era molto lungo ma era anche molto lento come li calciano i giocatori della juve tutti nell'angolino sono tutti uguali i penalti di roma e li segnano tutti quanti evidentemente si erano si erano preparati tra l'altro non so se hai visto nicola mi hai fatto morire del ridere i famosi pizzini nella finale tra tra egitto e senegal che hanno dato al portico hanno dato praticamente la bottiglietta dell'acqua la borraccia con tutti i pizzini soltanto che è successo esattamente quello che accadde nell'84 nella finale di roma liverpool dove il portiere romanista franco tancredi dichiarò di essersi studiato alla perfezione i tiratori del liverpool c'era solo un problema che quelli del liverpool lo sapevano e tirarono tutti dall'altra parte e non parò un rigore e così è successo nella finale con il senegal tutti questi pizzini buttati a destra buttati a sinistra ho calciato tutti dall'altra parte insomma occhio occhio ai pizzini ragazzi con gigio queste cose non succedono perché lui occupa tutta la porta non si tuffa fino all'ultimo momento e poi di una freddezza tanti lo hanno criticato perché non si è neanche reso conto e non ha esultato subito dopo l'ultimo rigore parato invece a me è piaciuto perché proprio il transagonistico nel senso che era talmente preso da dover parare il calcio di rigore che non ha avuto neanche quasi il tempo di realizzare che in quel momento lì era diventato campione d'Italia e campione d'Europa no verissimo ma poi allora io mi rendo conto che l'europeo oltre a una vittoria di squadra è una vittoria sua perché lui di fatto ce l'ha fatto vincere cioè non possiamo dire altro infatti guarda io ero a San Siro per la Nations League e mi è spiaciuto veramente veramente tanto sentire i fischi di San Siro io ho una cosa che mi ha spezzato il cuore veramente brutto perché le stesse persone immagino che fossero anche loro fuori a festeggiare l'11 luglio sono poi le stesse che l'hanno fischiato per una una questione di di tifo che però va al di là della nazionale quindi io spero di non sentire più queste cose ed è un peccato perché adesso San Siro non vedrà penso la nazionale per un po' eh sì ci sta ci sta è giusto è un giocatore donnarumma che va che va ha valorizzato anche col supporto perché non dimentichiamoci che lui ha esordito tanto giovane e ha sempre preso gli insulti di tutti poi lasciamo stare il fatto che appunto sia stato gestito in una maniera piuttosto che piuttosto che nell'altra tra l'altro facciamo anche un in bocca al lupo a raiola che ha subito delle operazioni poco recente non lo auguriamo a nessuno e insomma è donnarumma è un giocatore che se comunque non riceve del supporto tende tende a sbagliare ma è normale però avere il tuo stadio contro che ti fischia contro quando gli hai fatto vincere l'europeo lo capisco nonostante lui sia si è abituato a questa questione qui e rimpianti di non averlo visto alla Juve sembrava fatta poi probabilmente anche per una decisione di Allegri è finito al Paris Saint Germain parrebbe magari tu ne sai qualcosa in più perché vivi più all'interno le questioni dei giocatori che Allegri abbia detto al presidente io mi fido di Scesni che peraltro sto facendo benissimo e nonostante sia stato criticato all'inizio per me molti punti della Juve sono stati raccimolati soprattutto nella prima fase dove abbiamo visto una Juve molto brutta per essere vera grazie a Scesni mi viene in mente la parata su Calulu tra le altre cose Juventus Mila ma non solo anche con lo Spezia ci ha salvato dal 3 a 1 che probabilmente in quel momento lì ci avrebbe affossati a tutti gli effetti ma tu hai rimpianto di non aver visto dopo Zoff la Juve solitamente ha sempre il portiere della nazionale dopo Zoff e dopo Buffon un altro Gigi allora secondo me arriverà il momento non era non era ancora il momento e guarda ti dirò io sono contenta che poi la fiducia sia andata a Scesni perché comunque è un giocatore che ha sempre fatto benissimo per la Juve e con la Juve e sta facendo benissimo tuttora per cui non puoi io non ho mai amato le operazioni alla Zamparini poverino pace all'anima sua eh certo 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 lo ricordiamo però io non ho mai amato quelle decisioni prese in base a un paio di partite o un periodo un brutto periodo lo possono avere tutti lo possiamo avere anche noi sul nostro lavoro tranquillamente non per questo ehm le persone debbano essere mandate via per un brutto periodo eh perché non lo trovo giusto e secondo me bisogna basarsi anche su quello che è stato il passato quello che in questo caso il giocatore ha fatto per per la maglia e per fortuna che poi abbiamo ragionato di modo da da tenerlo e da valorizzarlo e il primo è stato Allegri e il fatto che l'abbia difeso all'inizio del campionato nonostante le cose andassero a sfacere è una cosa che io ho apprezzato molto perché non tutti sono disposti a farlo è un'epoca in cui tutti siamo non siamo importanti e siamo assolutamente sostituibili io invece credo più nel nel valorizzare e nel supportare le persone che che vanno a costituire un gruppo e questo nel calcio ma ma anche al di fuori perché troppe volte io si parlo anche per esperienza personale le persone non sono importanti per un progetto e quindi vengono trattate in malo modo e purtroppo si perdono e sono comunque delle perdite perché è un lavoratore o un calciatore che non viene valorizzato e quindi magari non lavora non lavora più bene è sempre è sempre una perdita ecco e in questo caso io penso che sia una perdita cioè che sia stata una scelta sbagliata andare al Paris Saint Germain per Gigio perché insomma la situazione lì ma lo spogliatoio è una cosa risaputa è una polveriera è una polveriera non è una situazione rosifiori io mi sbilancio dico che con Donna Rumma che secondo me giocherà nei turni eliminatori una volta sono anche stato un po' preso in giro per questa mia affermazione ma io continuo a insistere sono testardo per me all'inizio Pocettino faceva fatica a togliere il posto a Keylor Navas adesso con l'eliminazione diretta e con la prospettiva dei calci di rigore perché il Paris Saint Germain è una grande squadra ma non ha un diritto divino a passare il turno quindi alcune partite potrebbero finire anche con i penalty potrebbe venire molto utile avere Donna Rumma fra i pali e io credo che alla fin fine ovviamente mi auguro di sbagliarmi che possa essere Juve ma non bisogna illudersi troppo quest'anno il Paris Saint Germain vincerà la Champions League nonostante tanti dicono vedo che tu non sei d'accordo infatti adesso per me quest'anno potrebbe essere il loro momento perché vedo un Bayern sempre molto roccioso e tosto ma non più forte come gli altri anni e non vedo all'orizzonte una grande squadra magari succede poi la sorpresa che il Real Madrid fa il blitz e li butti fuori negli ottavi di finale ma dovessero passare quel turno con il Real questa volta li vedo veramente molto favoriti per arrivare fino alla fine sai cosa? Spesso dietro alle grandi vittorie ci sono i grandi gruppi e dietro alle grandi sconfitte ci sono dei gruppi non coesi, non uniti il più delle volte è così guarda ti faccio un parallelismo con l'europeo PSG e Francia che vabbè è una coincidenza il fatto che si parli di Francia in realtà hanno lo stesso difetto di avere e hanno avuto lo stesso difetto nel caso della Francia Junior di avere avuto un spogliatoio poco coeso molto spaccato e io penso che sia un grandissimo difetto forse uno dei più difficili da risolvere è uno degli ostacoli più grandi sai quando si dice questa squadra può perdere solo contro se stessa sì, è vero penso che sia un po' il problema del PSG e che in realtà lo sia sempre stato perché questi giocatori sono tutti prime donne e quando ci sono troppe prime donne o anche una sola come magari abbiamo avuto modo di notare negli ultimi anni alla Juve e poi si sbilanciano i ruoli si finisce per avere delle tensioni e le tensioni non sono mai buone perché poi il calcio è uno sport di squadra non ti dico niente di nuovo per cui diventa proprio difficile poi non lo so, magari avrai ragione tu però io finché non vedo un PSG non ti dico coeso ma con una tranquillità di squadra diciamo così quanto meno apparente non mi fido non lo so non mi fido di loro una fish la punteresti sulla Juve adesso che c'è Vlaovic prima ovviamente era quasi una barzelletta io una fish la punterai volentieri poi è chiaro come hai detto tu che la Champions tanti lo dimenticano la fa molto il sorteggio perché tu per esempio dopo il Villareal se hai magari la fortuna non dico di incontrare una squadra debole perché squadre deboli non ce ne saranno però ritrovi per esempio il Chelsea che hai già battuto a Torino e che secondo me la Juventus con Vlaovic potrebbe tranquillamente eliminare e poi ti ritrovi in semifinale lì mancano tre partite è inutile che ci giriamo intorno per me guarda questo calciomercato è stato veramente fondamentale chi l'avrebbe mai detto anche perché poi arriva bene e aveva detto no ma da questo calciomercato lasciate stare non guardatelo neanche ammazza l'ho rivalutato perché all'inizio anche con questo sguardo sempre truce era abbastanza inquietante diciamo che se Tonino Guerra in una reclama era un po' il volto dell'ottimismo arriva bene era un po' il volto del pessimismo perché però dopo questo calciomercato chapeau e grazie mille meglio essere pessimisti piuttosto che menarsela e poi fare dei gran pasticci io la punterei una fish ma è logico che è molto difficile però io sono molto contenta di questo calciomercato e penso che l'arrivo di Vlaovic c'è il riposizionamento di qualche giocatore e ti parlo soprattutto di Morata sia cioè possa essere veramente di aiuto ma tanto anche solo per la positività della squadra perché nel momento non so se ci hai fatto caso anche tu l'altra sera contro il Verona una partita tra l'altro tostissima perché loro hanno Tudor che veramente bravissimo e mi è piaciuto perché nonostante le assenze è venuto a giocarsi la partita a Torino così si fa non è venuto a fare le barricate e come la giocata e io guarda era a parte che era dal 2019 che non battevamo il Verona sì con l'anno di Sarri 2-1 dò in vantaggio il Verona e poi il recupero vincemo noi e lì è arrivata la prima la prima sconfiuta col Verona io penso che finalmente farcela con una squadra che ti ha dato tutto questo filo da torcere per un paio di anni è tanto e quindi una partita di sacrificio così vincendola anche 2-0 con Clean Sheet è tanta roba e percepivi quell'entusiasmo quella positività che non si sentiva da tanto vero vero sembrava quasi una prima di campionato come se avessimo resettato tutto la stagione in colore le partite in colori bruttissime perché io ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo che fino non è che la Juventus domenica mi abbia incantato però è stata la Juve cioè grinta determinata cattiva ecco prima io veramente ho visto il nulla una volta ho fatto addirittura un post ironico perché poi mi piace sempre scherzare dopo Milan-Juve ho messo in sottofondo Califano tutto il resto è noia perché veramente mi ero concentrato mi ero organizzato la domenica per gustarmi quella partita era come una camomilla ecco se mi fossi messo a letto mi sarei addormentato e quindi veramente come se fossimo ripartiti il domenica ho avuto proprio la sensazione di vedere una Juventus completamente nuova e una stagione che andasse a iniziare all'interno di una stagione già in firi questa è stata un po' la mia sensazione esatto io penso che sia stato proprio questo nuovo assetto anche vedere Morata dopo un mese di incertezze perché quando non hai la certezza di rimanere in una squadra e quindi di dover magari nuovamente cambiare ripartire da capo portare via una famiglia tutto quanto è pesante poi loro si ritrovano a firmare contratti da un'ora all'altra a effettuare un trasloco un trasferimento dall'altra parte d'Italia parlo del mio caso piuttosto che d'Europa in un giorno e mezzo mentalmente o l'affronti con grinta con entusiasmo ma non è detto che tu lo faccia perché comunque sai con un giocatore che abbiamo davanti con la sensibilità di Morata che se non si sente apprezzato voluto bene l'ha detto lui stesso va un po' giù di testa è complicato recuperarlo per cui io capisco anche che che abbia vissuto un mese o anche più mesi in modo difficile con tanta tensione con con il dubbio di di cosa sarebbe successo dopo perché ok arriva Vlaovic però io che fine faccio e invece Morata è quel giocatore che se non è così responsabilizzato rende il meglio di sé Vlaovic è un giocatore diverso da Carlitos Tevez però alla fine è un altro giocatore importante in mezzo all'area che impegna la difesa avversaria liberando Morata dalle grosse responsabilità e fa rendere Morata diversamente perché poi Morata comunque una seconda punta anzi tante volte è anche un esterno alla fine come ha dimostrato quindi secondo me io ho sempre detto che è il più dopo Vlaovic ovviamente l'acquisto più importante del mercato di gennaio perché sembrava destinato al Barcellona è come se lo avessimo riacquistato ed è sicuramente l'uomo in più e lo sarà anche in Europa sì 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 sono d'accordo anche perché lui ha oltre il fatto di vederlo finalmente nella posizione corretta e io penso che l'abbia dimostrato la partita contro il Verona poi non diciamo niente perché può può succedere di tutto però io penso sia stata veramente una bella conferma una bella dimostrazione sia anche importante averlo grintoso fiducioso perché poi tra l'altro lui ha sempre dimostrato di volere bene alla Juve io mi ricordo penso l'ultima trasmissione che abbiamo fatto insieme era proprio quella finale di Coppa Italia che aveva segnato lui prima di andare via e mi ricordo che dicevamo ma quello lì quel gol lì e quelle esultanze lì saranno stati dell'addio un addio e io dicevo no dai Daniel speriamo di no è la trasmissione che ricordo tra l'altro con più piacere perché fosti tu a condurla tra le altre cose e poi per chi non lo sapesse è stata Nicole che è stata la prima a chiamarmi in conduzione professore quindi poi per questo appellativo che appartiene poi alla mia professione avere a che fare con persone di questa cultura come come serai tu e insomma è davvero un valore aggiunto io ho sempre ho sempre messo una buona parola per Daniel mi ha sempre fatto piacere averlo a me ma io penso che faccia piacere anche agli altri conduttori perché è una presenza che dice sempre la sua è in grado di farlo in maniera pacata educata con i giusti tempi radiofonici televisivi e io ovviamente non è per ricambiare il piacere mi auguro che chiaramente qui ci ritroveremo tutte le volte che vorremmo ma che soprattutto ci possiamo trovare anche su qualche emittente importante insieme sono convinto che prima o poi questa cosa accadrà ecco riportate questo questa coppia televisiva ovviamente su qualche canale ma datici direttamente coppia televisiva per l'amor del cielo c'è anche il tuo fidanzato ma Dio mai mi fulmini se possa dire qualcosa di diverso assolutamente televisiva prima di chiudere Nick però non possiamo trascurare due parole vorrei sapere la tua opinione sul discorso di Bala è una di quelle situazioni secondo me che non hanno risposta perché sono troppo complicate io ti dico soltanto questo questa considerazione l'ho fatta a TL domenica scorsa il prossimo anno noi rischiamo di trovarci qualora di Bala dovesse rinnovare parlo tatticamente con Chiesa Vlaovic Di Bala Quadrado diventa difficilissimo per qualsiasi allenatore trovare una logica in questa formazione tu lo rinnoveresti lo lasceresti andare io credo anche che dal punto di vista psicologico il giocatore sia questo e non possa cambiare tu cosa cosa ne pensi non potevamo trascurare questo argomento che è l'ultimo ovviamente io mamma mia è una situazione difficilissima nel senso che lui va a stagioni e va molto a periodi è classico giocatore argentino che insomma se se ha un periodo no lo subisce ancora di più perché non si piace è molto un morale io lo vedo molto in questo senso quindi io penso che la società debba fare debba prendere una decisione che si basa anche molto sulla psicologia di quella che poi andrà ad essere la squadra quindi che squadra vuoi una squadra affidabile una squadra più imprevedibile un po' matta e io penso si basi più su questo e poi io vorrei anche capire la posizione sia sua che del procuratore perché lui comunque ha sempre detto io voglio la Juve voglio la Juve assolutamente però poi le richieste che sono state fatte non rispecchiavano esattamente questa frase qua soprattutto perché avanzare determinate richieste economiche in un periodo in cui davvero pochi si possono permettere di pagare cifre tanto alte lo vedo anche un po' poco rispettoso a me non è piaciuto Di Bala nel momento in cui ha avanzato determinate richieste e poi nelle partite decisive contro l'Inter eccetera in realtà non si è visto brava tra l'altro a me non è piaciuta neanche quella reazione quella quello Juventus sudinese veramente lo ricorderò soltanto per i tre punti e poi veramente che tutto sparisca anche dalle mie memorie perché non mi piacque ovviamente Di Bala questa voglia di sfidare una società come la Juve ma ha dito anche Pavel Nedved che per me rimarrà sempre un grandissimo idolo come giocatore uno dei miei preferiti uno Juventino vero uno che ha dichiarato che non andò all'Inter per salvare la dignità quindi Juventino per sempre però andare a fare poi quelle sceneggiate quando sai che ci sono le telecamere che si fanno le trasmissioni veramente lo stile Juve lì è saltato completamente per aria da parte di tutti io il primo commento a caldo che mi venne dopo quella partita è dire basta via tutti rivoglio la mia Juventus perché è davvero io penso che ci vogliono persone sia in dirigenza che in campo che davvero rispecchino lo stile Juve quindi no scenate attenzione alle telecamere ma perché poi è risaputo che la stampa comunque anche sul web si fa clickbait si raccolgono visualizzazioni e copie vendute parlando della Juve è una cosa super risaputa quindi io l'ho trovata anche un'ingenuità farsi vedere così allo scoperto io penso che i panni sporchi si lavino in casa esatto e certe sceneggiate sia in campo che sugli spalti non mi è piaciuto vederle assolutamente perché sono cose che tra l'altro possono essere gestite tranquillamente in spogliatoio o negli uffici della dirigenza come si è sempre fatto non mi piacciono le scene all'Aicardi no non sono amante di queste cose qui detto questo io prenderei una decisione definitiva su Dybala basandoci sui prossimi mesi visto che adesso la formazione è a posto non si può più dire niente non ci sono più scuse quindi insomma a giugno il banco di prova ingaggi a parte la butto lì non la dico qui in esclusiva se veramente fosse interessato il Liverpool un bello scambio con i Reds con uno dei tre che scelgano loro Salah Manet o Firmino alla Juve che scelgano loro mi va bene qualsiasi dei tre al posto di Dybala eh sono d'accordo sono d'accordo anch'io sì non me ne vogliate è fantamercato eh non abbiamo alcuna voce però visto che è interessato il Liverpool benissimo che Dybala vada ai Reds e che i Reds ci diano uno dei tre gioielli sono convinto che sono tre giocatori che si adatterebbero benissimo al campionato italiano e a giocare insieme a Blauvic tutti e tre uno dei tre che scelga il Liverpool sì bisogna bisogna anche stare un attimo attenti ai giocatori che vengono dalla Premier perché è un calcio così diverso che di solito per adattarsi a quello italiano ci vuole un attimino però dandogli il giusto tempo sì io vorrei capire se Dybala ha ancora qualcosa da dare alla Juve e da dare anche se stesso per crescere cioè se se lui alla Juve è arrivato e non non c'è più uno scambio di professionalità di crescita allora è giusto è giusto salutarsi è normale così giustissimo Nick io ti ringrazio tantissimo ufficialmente per aver accettato il mio invito per essere stata sulla mia pagina è stata una bellissima chiacchierata ad maiora ovviamente per entrambi ma comunque qualsiasi cosa un piccolo angolino qui lo troveremo sempre perché abbiamo parlato non solo di calcio ma di tutto come si fa sempre con te perché sei una mattatrice come dico io pochi post ci sono tante persone competenti ma di mattatori e mattatrici ce ne sono pochi grazie Daniel veramente mi ha fatto super super piacere e poi noi rivediamoci presto su questi canali speriamo di ritrovarci anche con qualche simbolino magari a destra dai telesterni ecco ok basta buona serata a tutti buona serata ragazzi grazie mille sta terminando grazie mille grazie mille grazie mille